si può effettivamente fare un gioco per cercare di creare l'orologio perfetto cioè un ingranaggio che funziona così bene e così in maniera così elegante da appagarci completamente e questo funziona benissimo finché questo gioco lo giochiamo da soli già al momento in cui questo gioco dobbiamo farlo giocare a altre due o tre persone banalmente i nostri amici più intimi bisogna che questo gioco vada un pochino incontro ai loro gusti altrimenti a loro non piacerà quindi in realtà ogni gioco viene più o meno progettato intorno a uno specifico tipo di giocatore uno specifico tipo di esperienza di gioco e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo magari abbiamo voglia di fare un gioco su un'idea che ci è venuta ma se non sappiamo a chi si rivolgerà è poi difficile lavorare su quell'idea per far sì che faccia quello che vogliamo perché se non sappiamo per chi deve farlo è molto difficile capire come farglielo fare parlando di metafora all'interno del game design è un po' complicato dire dov'è è una meccanica la usiamo nelle dinamiche la usiamo nella nell'esperienza che vogliamo restituire al giocatore in realtà no noi andiamo a usare la metafora a monte all'inizio come diceva marco l'approccio è io cosa voglio rappresentare esattamente come la rappresentazione della realtà in qualsiasi medium è il cuore di quello che andiamo a fare anche un gioco è rappresentazione a volte di una realtà reale descriviamo la guerra di crimea è successa la rappresentiamo e a volte invece è una rappresentazione invece di di fantasia di qualcosa che succede all'interno del designer all'interno della testa in realtà tutto questo è completamente ininfluente nel momento in cui noi usiamo la metafora come strumento di rappresentazione però passo indietro che cos'è la metafora la metafora è l'etimologia ci dice una cosa molto precisa è un trasferimento è un portare fuori è un portare attraverso detto così è vago però in realtà è molto preciso perché è esattamente quello che noi andiamo a fare quando prendiamo un concetto da un ambito che è suo che è proprio che è definito e riconoscibile sia dal lettore che dall'autore quindi siamo tutti d'accordo in realtà lo mettiamo in un altro ambito in un altro contesto in un altro spazio semantico e questa cosa genera solitamente dei contrasti molto interessanti ma soprattutto genera un movimento che è quello che vogliamo andare a prendere noi io vi parlerò un po' della mia esperienza con i sistemi di gioco e con i sistemi più in generale il sistema è un insieme di elementi interconnessi tra loro che seguono determinate regole tra loro questa è una delle mille definizioni che si possa dare al sistema ma è quella che forse in questo momento ci interessa mi sbilanzo un po' e dico che di fatto il gioco è il sistema quindi è l'insieme di regole e l'elenco di componenti questo è il gioco come oggetto il fatto è che noi non dobbiamo progettare il gioco come oggetto quello che dobbiamo progettare noi come designer di giochi e sviluppatore di giochi è l'esperienza di gioco e che include sia il sistema di regole sia l'aspetto materiale del gioco sia e soprattutto l'esperienza che vogliamo un giocatore provi al tavolo e quindi soprattutto quest'ultima parte rende il nostro lavoro più difficile perché è un problema di design del secondo ordine noi dobbiamo reclutare una cosa che a sua volta scatenerà altre cose in questo caso l'esperienza ciò non toglie che quella parte basilare che è il sistema di regole che sta al cuore di tutto e che regge tutto e che non è una terza volta indispensabile non è l'unica parte indispensabile però sempre di quella non si può costruire sopra nulla il processo di ottimizzazione è qualcosa che molti o fanno a monte quindi partono già con un'idea di gioco anche ben precisa hanno fatto diverse considerazioni giusto o sbagliate che siano e poi vanno avanti nello sviluppo e si ritrovano quasi ingessati senza riuscire ad avere quella flessibilità del riuscire a snellire il regolamento riuscire a cambiare qualcosa nel design document o riuscire anche a rivedere i componenti in base alle sue esigenze o per anche ridurli o riadattarli anche in base al cambiamento che succede di continuo durante i test e lo sviluppo tante altre volte invece si parte anche a razzo a mille con tante idee tante tanti componenti si pensa in grande e poi ti ritrovi che subito devi stare lì a snellire e ad asciugare il tutto quindi appunto è un processo che parte fin dall'illiazione arriva finché non arrivi con il tuo minimal variable product che è proprio il prototipo che dice è pronto per essere proposto all'editore per essere l'autoprodotto per fare un kickstarter e quindi è una lente, effettivamente una lente l'ottimizzazione che devi portare con te sempre al pari con le altre quindi gli altri argomenti che affrontiamo che ovviamente va di pari passo con avere sempre chiara l'ambientazione e come riesci a rendere tutto no metaforizzando tutti gli elementi di gioco avere sempre chiaro il sistema nel complesso e come ogni cosa si integra in esso e allo stesso tempo prima parti con l'ottica dell'ottimizzazione e quindi anche del miglioramento del gioco prima te li trovi con sostanzialmente riesci anche a ridurre i tempi e a portare quel processo di iterazione che non diventa più ciclico ma diventa quasi una spirale discendente in cui piano piano riesci ad arrivare a quello che ti serve, al progetto giusto anche perché è vero che c'è questo detto dei game designer americani che i primi dieci giochi che faranno schifo quindi buttali, però c'è anche il detto tutto italiano che il game designer come il maiale non si butta via nulla per cui ogni cosa che fai ogni meccanica che pensi ogni idea che hai io almeno metto tutto in un cassettone perché poi viene sempre fuori il modo per riutilizzare un qualcosa che si è appreso tra l'altro uno potrebbe pensare che dopo la parte di Ercole quindi tutta la parte di ottimizzazione uno ha finito ma no, ma no, ma per niente manca ancora l'ultimo blocco che è quello del paragame ossia tutto quello che influenza la partita ma non è all'interno delle regole o non è stato pensato all'interno del gioco per fare un esempio veramente banale pensate se dovete giocare se vi avessero fatto giocare il vostro gioco preferito quindi il vostro gioco da tavolo preferito è proprio quello che è wow però se la prima volta vi ci avessero fatto giocare dopo una giornata di lavoro in cui eravate stanchi morti all'interno di una stanza in cui stavano provando le coreografie gli ultra della squadra locale di calcio quindi con le trombe i cori da stadio probabilmente avresti odiato l'oro e il gioco perché tutto quello che interferisce con l'esperienza di gioco in realtà ci interferisce quindi la modifica questa cosa però può essere anche utilizzata a nostro vantaggio per esempio una cosa tipica è la differenza fra facciamo l'esempio classico del dungeon crawler in cui io devo attaccare un mostro e il sistema di gioco mi propone o di girare una carta da un mazzo o di giocare una carta dalla mia mano o di tirare un dado in realtà queste tre cose che sono tre randomizzatori apparentemente voglio dire potrebbero essere quasi equivalenti hanno una valenza molto diversa perché girare una carta da un mazzo è un qualcosa di estremamente freddo già giocare una carta dalla propria mano magari sbattendola sul tavolo dà più l'idea di un attacco ma finora per me e per moltissimi altri niente è uguale allo swing della spada come il tiro di dado perché la gestualità è molto simile quindi questi sono elementi di paragame che possono essere sfruttati a proprio vantaggio ci sono per esempio giochi su le mosche in cui i giocatori sono chiamati a schiacciare le carte sul tavolo oppure lo stesso voodoo che chiede ai giocatori di utilizzare il proprio corpo come elemento di gioco per sopportare le angherie imposte dal gioco stesso e dai propri avversari ci sono un sacco di soluzioni che possono essere adottate e ci sono in tutti i tipi di gioco se ci sono nei video giochi sull'uso del controller la vibrazione l'uso di determinati materiali sul tavolo quindi una miniatura finemente lavorata dà un'idea molto più immediata del tipo di pezzo rappresentato di un cubo di legno per esempio però ci sono altri casi in cui invece avere dei materiali per esempio di legno molto schematizzati aiutano il giocatore a immergersi meglio nel sistema di gioco perché non c'è bisogno di troppe distrazioni per esempio molti scacchisti hanno in odio l'uso di scacchiere troppo elaborate perché li distraggono dal dal pensare al sistema di gioco che è quello che gli interessa perché vogliono vincere quindi il paragame ha impatti diversi a seconda del tipo di gioco cioè in alcuni casi lo volete ridurre al minimo in altri casi volete espandere al massimo perché trovo burrito e tiriamoci delle robe in faccia perché è divertente quindi c'è anche questa parte qui come vedete tirando un po' le fila di ogni progetto sia esso un qualcosa che magari avete già nel cassetto oppure una cosa che vi viene in mente all'inizio del corso o ancora se volete semplicemente seguire e sentire un po' di consigli utili noi poi proporremo anche degli esercizi anche divertenti secondo me ecco il punto è darvi diversi punti di vista sul vostro gioco che probabilmente a cui probabilmente magari non avete mai pensato chiaramente nel caso di quelli più relativi al sistema o all'ottimizzazione come gli appuntamenti di Eric e Ercole ci sarà una maggiore abbondanza di descrizione di strumenti di programmi di come fare le cose nel modo più efficace possibile per la nostra esperienza nel caso del paragame e della metafora invece si andrà più a indagare la parte diciamo emotiva del gioco quindi c'è un po' una doppia anima anche perché il gioco è questo cioè da un lato i giochi sono sistemi dall'altro sono sistemi che veicolano emozioni quindi c'è un po' da fare una media di questi due aspetti poi ognuno ha le proprie inclinazioni ovviamente quindi c'è chi andrà più verso il party game ammazziamoci dalle risate e chi vorrà fare il gioco in solitaria perfetta che di buono basta che piaccia a me e poi sono contento vedo Stefano che ride perché lui lo fa continuamente il numero perfetto di giocatore di un gioco da tavolo è zero zero e con questo e con questo omaggio a Leo Polovini no posso aggiungere addirittura d'arrivo che sì questo percorso allora questa è una cosa importante è pensato ed è ideale per chi ha un gioco possiamo dire nel cassetto ma in realtà potrebbe anche essere qualcosa di più di un gioco nel cassetto perché sarebbe molto gradito avere perlomeno diciamo un design document o quello che conoscete che più si avvicina a un design document che vi faccia d'affaro perché insomma ognuno di questi percorsi è pensato per non essendo intermedio è giusto che sia così non partiamo da zero e capiamo quali sono gli elementi del game design ma partendo da un design document o qualsiasi un foglio Excel perché magari qualcuno lavora meglio con questi strumenti differenti comunque ho un gioco che voglio sviluppare che sto sviluppando ma chiaramente mi manca la professionalità per capire dove sto sbagliando per capire che cosa non sta funzionando per capire il quid le sensibilità sui singoli aspetti del gioco sono individuali ma chiaramente un gioco è un bilanciamento di tutti questi aspetti se ognuno di questi aspetti è fatto in maniera perlomeno buona il gioco è abbastanza sicuro che perlomeno funzionerà quindi per chiudere il cerchio la cosa migliore sarebbe avere un gioco su cui si sta già lavorando o sul quale si è iniziato a lavorare perché avrete la possibilità poi settimana per settimana di applicare le conoscenze che avete acquisito in quel modulo e anche cercare di capire le ho capite quindi insomma avere anche la possibilità di esercitarsi settimana per settimana e con la possibilità di essere seguiti da cinque professionisti andremo comunque un pochino più nello specifico per cui daremo per scontate alcune cose non sono cose difficili sono cose in realtà poi Enrico se mai linkiamo la mia guida quella sul blog che uno magari ci dà un'occhiata se quella vi suona chiara potete partecipare a questo laboratorio se invece la leggete e dite oh no questa persona sta parlando arabo probabilmente siete ancora se le parole framework design document pitch sales sheet è la prima volta che le sentite stasera o quando vedrete la registrazione probabilmente avete prima bisogno di un laboratorio di base o di leggere un po' di insomma letteratura